C'è una brutta guerra, ci mancava solo questo, finisce la pandemia e inizia la guerra. Maledetto Putin, maledetti russi, quello è un dittatore, uno spietato dittatore, no draghi. Rino, dove stai andando? Ti devi mettere l'elmetto, mettiti l'elmetto prima di uscire di casa. Ci stanno le bombe, ci stanno i siluri. Il nostro Di Maio è andato a trattare i russi, speriamo bene, una persona preparata. Ci sono state manifestazioni per sostenere l'Ucraina, ha cantato Gianni Morandi, c'era anche Prodi. E adesso l'Europa gli fa le sanzioni a Putin, sì sì, maledetto. Grazie a tutti.